Adesso parliamo della questione relativa alle scommesse con questa notizia che ha dato stamattina la Gazzetta dello Sport secondo la quale da quello che ha ricostruito la Gazzetta Tonali avrebbe scommesso Aurora anche sulle partite del Milan. Scommesse Tonali ha giocato sul Milan, rischia un anno di squalifica. Il centrocampista è stato interrogato dalla PM e ha ammesso caccia ai nomi di chi gestiva il sistema di scommesse. Adesso vedremo, questa è un'anticipazione che ha dato oggi la Gazzetta dello Sport, che poi è stata ripresa anche da altri. La Gazzetta dello Sport spiega che comunque non ci sarebbero gli estremi dell'illecito sportivo perché il giocatore non avrebbe scommesso su partite perse dal Milan. Insomma non ci sarebbe alcuna prova in base alla quale oltre alle scommesse ci sarebbe stato un tentativo di addomesticare il risultato. La Gazzetta però dice che Tonali che sta collaborando a sua volta, anche se ci sono delle differenze rispetto al caso di Fagioli, anche nel suo caso visto che sta collaborando e chi sta indagando, sta apprezzando il comportamento di Tonali e dei suoi legali, la collaborazione che c'è, anche nel suo caso si andrebbe verso uno sconto di pena. La Gazzetta in questo caso ipotizza la Gazzetta un anno, quindi un anno di lontananza dal campo, mentre Fagioli sono sette mesi di lontananza dal campo più un percorso riabilitativo di cinque mesi, perché in questo caso dice la Gazzetta il fatto che abbia giocato, abbia scommesso anche sulla sua squadra, questa cosa porterà ad una richiesta iniziale di sanzione più alta, disqualifica più alta e poi con il caso di patteggiamento, poi qui ho due avvocati per cui lo spiegheranno loro meglio di me, in caso di patteggiamento si riduce la pena ma difficilmente sarà come quella di Fagioli. Sanzione è un accordo, però qua si parte da una posizione, dice la Gazzetta, più grave, potenzialmente più grave, perché si è arrivati a Tonali grazie a Fagioli, per quello Fagioli ha ottenuto un trattamento, passatemi il termine, più morbido rispetto a quello che aveva. E poi la differenza è che Fagioli, stando a quello che ha detto finora, non ha giocato sulla sua squadra, lui avrebbe ammesso di aver giocato sul Mena. Domanda, però attenzione a una cosa, non parliamo di Tonali, parliamo di un altro giocatore, nella stessa condizione di Tonali, un giocatore che gioca all'estero, la federazione italiana, la Lega, chi vuoi, comunque squalifica il giocatore per un mese, siamo sicuri che poi il giocatore sconti la pena là? Sì, siamo sicuri? Sì, sì. Cioè la federazione inglese accetta la squalifica? Sto chiedendo, sì, chiedendo. Perché il pubblico ministero chiede contemporaneamente alla condanna l'estensione della pena. In tutti gli ordinamenti sportivi. Esatto, non è più come prima, perché prima doveva chiedere alla federazione dove giocava l'accettazione di quella stessa, l'esecuzione di quella sanzione, invece adesso non è più così. Tornando a quello che dice la Gazzetta, dice, la violazione contestata a Tonali non sarebbe, come dicevo prima, quella dell'illecito sportivo, ma resterebbe nel recinto dell'articolo 24 del Cogitice di giustizia sportiva, che punisce i giocatori che scommettono sul calcio con una pena minima di tre anni. Aver scommesso sul Milan, sembra, dice la Gazzetta, solo comunque su gare vinte, su altri risultati con lui assente, quindi con partite in cui lui non ha giocato, può costituire un aggravante. E quindi, dice la Gazzetta, l'iter seguito da Fagioli, che si è autodienunciato ed è arrivato al patteggiamento e gli ha avalso uno scontro, non sembra possibile nel caso di Tonali. Tonali si è comunque mostrato collaborativo, dice la Gazzetta, ecco perché si ipotizza che la sua squalifica possa essere di 12 mesi di squalifica sul campo e 6 di prescrizioni alternative, come nel caso di Fagioli. Quindi anche lì, 12 più 6, quindi 12 di assenza dal campo e 6 di questo percorso riabilitativo, diciamo così, come l'ha definito Gravina nei giorni scorsi, nel corso del quale deve fare delle cose e sarà tenuto in considerazione quello che farà per dimostrare sostanzialmente che si è pentito per quello che ha fatto. Un anno è sempre troppo poco, perché il caso Fagioli è a parte, perché Fagioli comunque ha fatto un percorso volontario, cioè adesso sono stati bravi gli avvocati della Juve quando hanno capito che la cosa cominciava venire fuori, perché non è che lo scoprono ad agosto, Fagioli pare che siano anni che scommette, quindi è inutile che stiamo qua a raccontarci tutte le belle favole. No, ma poi Fagioli sta aiutando in questo caso il procuratore Finè a chiarire non solo la sua posizione, ma anche i contorni, il quadro complessivo. Quindi la Juve lo ha avviato a una pratica in maniera, io penso anche intelligente, per cercare di ridurre al massimo il problema. Tonari si è fatto beccare proprio con le mani nel sacco, nel senso di dire che se non c'era Fagioli a raccontarlo, se non c'era Fagioli a raccontarlo, lui non sarebbe mai un ritorno aperto. Dice la Gazzetta che col fatto che lui sta collaborando fattivamente, questo lo porterà ad avere uno sconto di pena notevole, perché altrimenti rischia davvero tre anni. Su tre anni lo sconto lo fai gli dici, vai fai due anni, non uno soltanto. Lui lo sconto di pena ce l'ha in primis, quello grosso non ce l'ha perché confessa, non c'entra proprio niente. L'articolo 24, quello di cui parliamo del divieto di scommessa, prevede una squalificazione non inferiore ai tre anni. Minima a tre anni, sì. Nel procedimento sportivo esistono due tipi di patteggiamenti, uno prima della conclusione delle indagini e uno successivo. Quello prima della chiusura delle indagini porta ad uno sconto del 50, è quello quello che dà il grosso sconto, che è un anno e mezzo. Il fatto di non essere stato neppure deferito, che ha patteggiato prima. Ok, caro tipo 45. Che sarebbe il giocatore in questione? Sì, quello che tu, esattamente, eviti che il pubblico ministero inquirente faccia tutte le indagini e dici troviamo un accordo prima. Questo ti dà uno sconto del 50. Se tu invece fai un patteggiamento una volta che c'è il rinvio a giudizio, lo sconto è di un terzo. Quindi lui già da tre passa a uno e mezzo. Sì, però scusami, c'è l'aggravante che ha scommesso sulla sua sconda. Certo, c'è questo aggravante. Dall'altra parte, però, ci sono sicuramente delle attenuanti, che sono gli importi che ha giocato, la serialità con cui ha giocato, che tipo di scommessa ha fatto, se giocavano... La giustizia su questa cosa è infinita. Quindi, secondo me, quello che loro dicono di 18 mesi è la giusta... È realistico. Non è realistico. Però, dall'altra parte... La Gazzetta, ad esempio, aveva anticipato il 7 più 5 di fagioli e poi è stato così. Però, vorrei dire, quando noi sentiamo, diciamo, si è andato a parlare in procura, a parte che, non so se anche Antonio si unisce a questa cosa, io mi congratulo col fatto che in tre mesi, da una denuncia, hanno chiamato qualcuno a... A deporre. Sì, sì, sì. Per un reato, che è di una legge di 1989, che se raccaverà con 1.000 euro di multa. Fagioli, 12.000 euro di ammenda. Ma per uno che guadagna 1.000 euro all'anno... No, quello che dice Carlo è incredibile. Sì, però, in quel caso... Però, attenzione, nel caso di fagioli, il danno non è la multa che gli fanno, perché comunque perde un anno, perché potrà giocare le ultime due giornate di campionato. E bisogna vedere cosa farà la Juve. Perché la Juve... Attenzione, la stessa... Difficilmente gli darà l'ingaggio intero per allenarsi e basta. Attenzione, però. Si sarebbe potuto arrivare alla stessa identica situazione, senza appoggiamento sportivo, se Fagioli fosse stato convocato perché indagato per aver scommesso su una piattaforma illegale. Il problema è che c'è anche il calcio. Quello che lo sposta sul piano sportivo. Sì, altrimenti... Ma per qualunque giocatore il problema è quello del calcio, perché comunque, anche per la regola sportiva, se tu scommetti su uno sport che non è il tuo, nessuno ti dice niente. Infatti, quella sembrerebbe... Infatti, Riccardo, quella sembrerebbe la difesa di Zaniolo. Che dice, io se ho scommesso, ma ho scommesso solo su... Ma questa sarà la difesa di tutti quelli che prima o poi verranno trovati. Poi parliamo di Fagioli perché stanno emergendo insomma, dalle sue deposizioni, delle cose che ha raccontato molto particolari. Stiamo parlando di ragazzi, quindi adesso è quello che diciamo in maniera un po' non proprio personale perché sennò diventa... Però per me se la stanno cavando con una carezza. Cioè, la grande differenza è se tu scommetti sul calcio e poi se sul calcio la tua. Se scommetti sul calcio, ma cosa ne so che tu non hai l'amico che gioca adesso nel Provercelli che io conoscevo e quindi scommetto sulla Provercelli e c'ho il mio amico che si fa nominare... Infatti, la norma parla di direttamente o indirettamente? Cioè, nel momento che tu scommetti sul calcio devi cominciare a pensare a una pena significativa. Tre anni. Se tu scommetti sul tennis e sui cavalli, boh, finita, sei uno come tanti. Mauro, sono tre anni. Mauro, tre anni per un calciatore praticamente... No, gli esprutti. Finita la carriera. Finita la carriera. Ma ragazzi, ma scusa, ma come facciamo ad essere sicuri che se io scommetto sul calcio, se anche scommetto su una squadra che non è la mia, in qualche maniera io non conosco telefonato... Ma non è lo stesso incolpato, eh? Sì, no, ma gli sta andando sette mesi perché comunque... Ma perché ha collaborato? Non c'è con me. Ma poi l'ipotesi... No, ma poi allo stato attuale da quello che emerge non ci sono prove di questa cosa qua. Non ci sono prove. Non ci sono prove che loro abbiano alterato le partite. Non ci sono prove. No, 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 no. Scusa, sul caso Fagioli... Né direttamente né indirettamente. Sul caso Fagioli ci sono fatto che tutti ignoriamo. Cioè, questo ha perso più che vinto. Ma sì, ma sì. Le scommesse le sono andate due a mano. Io se fossi in Zagnole sono sicuro di non aver scommesso sta seguendo la linea giusta. Ragazzi, andiamo tutti dove volete io non ho mai scommesso sul calcio. E lui fa benissimo andare davanti a qualunque tipo di situazione. Perché se io sono sicuro... Se io ti faccio l'avvocato del Diavolo non del Milan, del Diavolo o non come loro dove tu sai benissimo che delle scommesse dei giocatori si parla da anni. E sai benissimo che se uno vuole può scommettere non in prima persona. Ma certo. Ma a parte c'è anche quello. però fammi solo finire. Cioè, l'ultimo spunto... Se tu scommetti sul calcio in generale e la pena è tre anni come fai ad arrivare a sette mesi? Non ce neanche il 50. E l'ha spiegato. L'ha spiegato. L'ha spiegato Carlo bene. Il 50... Eh, ma l'ha spiegato bene. Sono tutte fatti specie previste. Sono tutte fatti specie previste. Tre anni non li dai a nessuno. Perché se non li dai a uno che scommette sul calcio e sulla sua squadra tu non li dai a nessuno. Ma non dobbiamo... È un accordo. Eh, ma non dobbiamo... La condanna in questo caso. Antonio, non dobbiamo confondere quelle che sono le norme da poi... Cioè, vengono applicate delle norme. Poi le norme possono essere giuste o sbagliate. Quelle sono le norme. Cioè, scusa, ti faccio... Qua stanno applicando le norme. Ti faccio un esempio. Per omicidio, faccio un'ipotesi, no? Ci dovrebbe essere l'ergastolo, no? Sì. Se tu però scegli il rito abbreviato l'ergastolo non c'è. Ok. Sono fatti specie, è previsto. Seguite per le norme. Cioè, non è una cosa che si inventa. Con sette mesi. Ma io vorrei fare un'altra domanda. Tu devi fare così. Scusate, ma una cosa. Dopo, se Antonio avrà voglia, parleremo di che cos'è l'obbligazione naturale. Che è una cosa... Sì, poi non entriamo troppo nel tecnicismo perché sennò poi da casa diventa difficile comprendere. Faccio il milione che ha perso non lo deve pagare. Tre milioni. Non li deve pagare. Perché? Perché questo? Obbligazione naturale. Dipende dai serbi, però. Non dipende dall'obbligazione naturale. Se io e te facciamo un gioco ok? Giochiamo a carte. Ecco, facciamo un esempio astratto. Io e te, Michele, ci troviamo un saluto sera. A poker. Giochiamo a poker. Io, te e Antonio e io perdo un milione di euro. Non esiste un mezzo giuridico in base al quale tu vai in tribuna e dici che quello ha perso un milione di euro. Io credo che i serbi il mezzo giuridico... No, lascia stare, adesso i serbi. Non c'è un mezzo giuridico. Se io te li do è un'obbligazione naturale. quello di pagare un debito. Ok? Anche non dovuto. In questo caso probabilmente io non conosco le carte stiamo parlando per se dovessimo prendere un manuale in maniera strata stiamo parlando. Fagioli 3 milioni di euro che ha perso se era su una piattaforma illecita e non era riconosciuta non li devi pagare. Questa è una cosa diciamo che è emersa che non è emersa dai giornali. Ad esempio, questo aspetto. Non è un'obbligazione diversamente da quella naturale è un'obbligazione contrattuale. Per cui io e te abbiamo un contratto io sono obbligato a darti quello che ti devo. Poi c'è un altro problema cioè capire con chi ha maturato questo. Ok. Quello è un altro spazio. Fagioli te l'ha spiegato come faceva a pagare. Quella è anche ti dico una cosa non carina che sia venuta fuori. Adesso ci fermiamo una questione che adesso parliamo di tonali poi parliamo di fagioli. I legali oggi hanno parlato di tonali dicendo che ha fornito piena collaborazione alle autorità inquirenti ha chiarito in modo esauriente la sua posizione fornendo altresì piena collaborazione alle autorità. Al momento non è possibile rendere dichiarazioni pubbliche chiaramente relative al merito della vicenda oggetto di investigazione nella speranza e convinzione che Sandro Tonali possa vedere definita al più presto la propria posizione per dar seguito positivo al percorso già intrapreso. Tra l'altro il Newcastle oggi in qualche modo ha difeso il giocatore dicendo che sta collaborando completamente con gli investigatori e continuerà a cooperare con le autorità. Il comunicato è messo dal club. Lui e la sua famiglia continueranno a ricevere tutto il supporto del club al momento tonali alla società non possono commentare ulteriormente. Questo fatto coppola del percorso riabilitativo cioè il fatto che per esempio il presidente della FGC abbia detto questi ragazzi noi non dobbiamo abbandonarli se hanno sbagliato è giusto che paghino però dobbiamo fare in modo che diventino dei testimoni nella lotta contro la ludopatia Gravina che aveva detto la ludopatia è una piega sociale non è un problema del calcio e questo fatto di voler in qualche modo andare incontro a dei ragazzi che per esempio che sono giovani ecco perlomeno quelli fagioli del 2001 tonali del 2000 sono ragazzi all'inizio diciamo della loro carriera Sì è quello che la costituzione prevede cioè che il fine della pena debba essere educativo per l'inserimento sociale della persona però ragazzi qui noi in Italia abbiamo quanti detenuti 60.000 70.000 facciamo questo discorso per tutti però non solo per uno che guadagna 5 milioni di euro all'anno facciamolo anche per dei ragazzi che comunque hanno sbagliato sono in galera pagano per corsi educativi questi non li avrebbero fatti per tutti cioè se non è un problema c'è messo con un'app lo fa uno che c'ha io non lo trovo comunque è giusto il fine deve essere quello di recuperare anche perché il mio caso fa questa dichiarazione ha 80 milioni di motivi ha 80 milioni di motivi cioè deve tutelare la dichiarazione della riducazione bla 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 la fa uno che dovrebbe un pochino sentirsi farsi venire le gote rosse cioè il presidente della federazione calcio perché non venitemi a dire che non c'erano in giro queste voci su questi giocatori anche tra i suoi dirigenti e tra coloro che curavano le squadre nazionali quindi semmai l'intervento doveva essere fatto molto ma molto prima su questo punto io però farei una domanda ieri ho visto come penso tutti la trasmissione su no io non l'ho vista vabbè hanno riportato le notizie sul giornale si parlava del fatto che non so se sia vero cioè pare che la juventus avesse sospeso fagioli dalla tournée americana si però questo è quello che sostiene questo è quello che sostiene Corona tra l'altro infatti sto dicendo tra l'altro è vero che non è partito per la tra l'altro allo stato attuale le società sono completamente esenti da responsabilità anzi nel caso della Juve pare che insomma lo abbia indotto in qualche modo ad autodenunciarsi che vorrei introdurre bisogna però fare attenzione a far passare per l'udopatia qualcosa che magari non è l'udopatia perché allora nel caso di Fagioli io credo che sia facilmente dimostabile la scusante della l'udopatia avrebbe un'arriavanza in sede penale ma non in sede sportiva c'entra proprio niente nel caso di Tonali io poi chiaramente come Carlo non ho letto per il momento ci basiamo sulle indiscrezioni nel caso di Tonali mi sembra quasi una corsa a dichiarare il giocatore come l'udopatico per provare ad ammorbidire e a come dire far assumere contorni meno negativi alla situazione su Fagioli invece ci sono degli elementi fattuali innanzitutto la cifra insomma l'ammontare del debito accumulato in così poco tempo rispetto al suo stipendio il fatto che avesse chiesto diversi prestiti di danaro a dei suoi compagni proprio perché non riusciva a onorare i propri debiti il fatto che poi ho letto sia stato anche minacciato da personaggi poco raccomandabili nella deposizione che ha fatto tutti questi elementi mi portano a pensare che effettivamente nel caso di Fagioli ci sia un problema ben più grosso nel caso di Tonali invece quello che io percepisco è che ci sia una corsa a ingigantire un problema dal punto di vista patoloro c'è da dire che mentre su Fagioli anzi addirittura sembrerebbe che no c'è da dire una cosa c'è da aggiungere un elemento che mentre su Fagioli è già emerso tanto su Tonali per ora è emerso poco rispetto a quello che lui ha detto a quello che ha dichiarato però voglio voglio magari poi verrà fatto un quadro più completo ecco adesso è incompleto io credo che siamo solamente davanti alla punta dell'iceberg perché oh bravo perché perché fino a cinque giorni fa si diceva sia per Tonali che per Zaniolo non hanno scommesso sul calcio poi piano piano sono venute fuori altre notizie hanno scommesso sul calcio Zaniolo ancora adesso respinge tutti gli addevi ha scommesso sul calcio ma non sulla propria squadra dopo due giorni viene fuori che ha scommesso anche sulla propria squadra secondo me mi sembra anzi piuttosto chiaro che siamo di fronte a un qualcosa di ben più grosso e il prossimo passo sarà quello di verrà fuori che c'è stata addirittura qualche combin auguriamoci magari non sul risultato mi spiego magari non sul risultato della partita concordare il risultato della partita però anche concordare un gol un'ammunizione un'espulsione spingiamo una cosa un risultato esatto però posso dire se l'ammunizione secondo me ci sarebbe da farla anche quella non per forza il risultato sarà che sarà e noi non lo possiamo sapere chiaramente però io trovo brutto poco elegante mi permetto di dire anche molto offensivo che ogni giorno sembra che stiamo giocando al gioco del chi è sì sì no certo lo stilicidio di nomi è una cosa pessima perché nel mucchio come noi sappiamo beccheranno con questo giochino qualcuno che non c'entra niente però attenzione magari si rovina perché io sento mi stupisce che tu che fai l'avvocato parli così perché se tu ricordi il calcio scommesso 82 era nato ma aveva pochi mesi come tank nell'altro caso si è partiti da piccole cose e si è arrivati a grandi cose e ogni giorno ne scoprivi una nuova e ogni giorno c'era sempre voglio dire anche col calcio scommesso forse non siamo arrivati neanche a scoprire il putero nel 1980 però hai capito il problema è che nel calcio quando parti così non sai mai dove arrivi sì attenzione però nel 1980 però dobbiamo anche dire questo c'è gente che ha preso 2, 3, 4, 5 anni di squalifica solamente perché ha stretto la mano a una persona che gliel'hanno presentata e non sapeva neanche chi era mai parlato di combine di niente e ha preso 4, 5 anni di squalifica detto questo però c'è una cosa che a me veramente dà fastidio ok io non sono un dottore non ho studiato medicina è vero ho fatto dei corsi online ma solamente per me quindi non potrei mai permettermi di dire qualche cosa quello che voglio puntualizzare è questo sento parlare di ludopatie eccetera quindi adesso se ci saranno altri diciamo giocatori in Italia all'estero che abbiamo hanno visto si vede che hanno giocato o non giocato di qua e di là cioè come fai sento della gente ignorante a livello di medicina che va a parlare in giro per il mondo e parla di ludopatia per dire che uno ha la malattia ci deve essere un esperto che ti dice che tu sei malato non perché fa comodo dire che uno è ludopatico ragazzi attenzione quello che diceva Borsellino prima Graneri due cose una volevo dire quello che ha detto Enzo cioè l'esempio più clamoroso è Paolo Rossi credo che sia stata abbastanza appurata adesso la situazione veramente Paolo Rossi gli hanno presentato una persona ha avuto un contatto che non è durato più di 5 minuti e si è preso qualche anno di squalifica quindi è una cosa molto più leggera lui non è mai entrato in questo genere di cose quindi quando dico i sette mesi mi sembra veramente un regalo l'altra cosa io credo che questo non so se sarà tecnicamente possibile soprattutto parlando di siti non ufficiali io credo che sarà fondamentale capire quali sono state nel dettaglio le scommesse cioè non basta dire io ho scommesso sul calcio lo appureranno lo appureranno perché è importante capirlo molti diranno io non ho scommesso sul calcio e probabilmente finisce lì se non c'è la possibilità di andare a risalire su questi siti illegali che quindi ovviamente non stiamo parlando di quelli ufficiali dove sicuramente tutto è tracciato perché io vado a vedere cosa è scommesso sul calcio perché se è scommetto su un'ammunizione del Milan cioè capisci che la gravità diventa assolutamente in maniera molto più alta infatti il passo successivo a punto di vista procedurale dovrebbe essere questo perché la Digos va nel ritiro della Nazionale questo motivo qua ma tu come per sapere sei scommesso negli ultimi tre anni allora la giustizia sportiva non può venire a sequestrarti il telefonino ma il telefonino mica avrà scritto dal telefonino invece no è proprio da lì che risali ma non credo che dal cellulare sia una cosa con l'informatica forense è da lì che loro riescono ad arrivare ma cosa hai scommesso non credo se le puntate le hai fatte dal cellulare da quello che è oppure ne hai parlato di qualcuno in ciao loro avevano paura giustamente inquirenti che quando alcuni organi di informazione facevano i nomi delle persone queste persone cancellassero le cose se ci fosse un inquinamento delle prove per questo sono intervenuti immediatamente quando finirà il processo penale il codice giustizia sportiva prevede l'acquisizione del materiale probatorio dal processo ordinario del processo e lì lo vedremo qua entri nel mio campo da informatico ti posso garantire che tu puoi andare a capire qual è l'indirizzo il PIDAL ma tu non saprai mai a meno che non l'hai scritto sulla nota ma se io te Enzo e Antonio abbiamo la posizione di scommettere tu che sei scommesso c'è un fatto che è chiaro che Corona ha fatto solo un danno alla procura e all'indagine perché nel momento in cui va a scoprire alcuni nomi tutti quelli che sono ancora al riparo della situazione hanno fatto in modo di cancellare una cosa che nessuno ne ha parlato attenzione ma se se c'è uno che aveva un telefono che usava solo per queste scommesse online è il telefono è il telefono è finito in mezzo all'oceano tu mi puoi sequestrare quello che vuoi che se io il mio telefono è pulito tu non travi niente ma se tu ne hai parlato con Antonio e Antonio va davanti agli inquirenti e dice ci stanno spiegando ci sono tanti modi per poter arrivare non è sicuro ma ci sono anche tanti modi per nascondere per scommettere tu devi arrivare al server dove ci sono questi siti il che se sono illegali io credo che sarà sicuramente è complicato ricostruire tutto però mi sembra che già tanto stia emergendo ci fermiamo di Fagioli che oggi ha parlato sul suo profilo Instagram poi dopo ha deciso di uscire dai social almeno momentaneamente perché chiaramente insomma in questo momento i social sono implacabili diciamo con i personaggi che sono coinvolti in questo caso scommesse cosa dicono da casa? tra l'altro ricordo anche il numero visto che non l'abbiamo ancora fatto 335 77 99 299 potete scriverci sia via whatsapp che sms appunto da casa ci scrivono sul caso Fagioli per come la vedo io non credo si tratti di autodenuncia si indagava già su di lui a maggio e quindi personalmente la chiamo confessione Borsellino che differenza c'è? in realtà niente perché l'autodenuncia è di fatto confessare un qualcosa un comportamento non lecito per le norme per le norme di giustizia sportiva poi bisognerà vedere per quelle penali che cosa è successo effettivamente però è la stessa cosa però loro dicono se magari non fosse stato messo davanti al fatto non lo avrebbe siamo nel periodo ipotetico ragazzi se con i mani si fa la storia e poi ancora la ludopatia mi sembra un insabbiamento bello e buono se sei ludopatico giochi sui siti legali se vai in mano alla malavita vuol dire che c'è altro sotto siamo pieni di pipponi ci si occupa dei loro ingaggi dei loro trasferimenti e anche dei loro vizi che tristezza e poi la squalifica di Fagioli sembra ridicola perché effettivamente la Juve paga sempre per tutti mentre gli altri tra prescrizione e dimenticanze la fanno franca e che stavolta siano gli altri a pagare di più ecco però in questo caso la Juve non c'entra niente sì però in questo momento la Juve non c'entra niente tant'è vero che ad esempio Tonali adesso gioca nel Newcastle ma l'anno scorso era al Milan poi in quanto la pena alla sanzione la squalifica ci hanno spiegato prima gli avvocati presenti in studio che le norme che non fanno altro che applicare le norme giusto solo un inciso perché tu hai detto la Juve non c'entra niente e nel caso specifico se ne parla così però i club vorrei sapere dove guardavano quando questi giocatori che comunque ha risaputo nell'ambiente giocare e lo stesso vorrei sapere dei procuratori dove guardavano però anche lì Riccardo io adesso non voglio difendere i club o i procuratori però come fai allora accertata mettiamo il caso che Fagioli fosse clinicamente accertato come ludopatico mettiamo questo o Tonali o chi per loro come fai materialmente a controllare H24 una persona scusami come società non si è sempre detto che negli spogliatoi c'erano dei senatori che parlavano con la società e dicevano quello che accadeva ma va bene secondo luogo se tu fai pedinare uno perché pensi che si droghi puoi anche farlo pedinare perché pensi che scommetti e poi che cosa fai scusami poi che cosa fai intanto cominci a tenere lo sott'occhio gli blocchi i conti correnti no lo che dice il problema va bene sempre provarle le cose vanno provate una cosa parla di uno che scommette perché si diverte perché vuole scommettere perché io parlo parlo di un soggetto finicamente accertato come l'uropatico che fai io parlo di tutti perché come tu sai il fatto che i giocatori si dedicano alle scommesse non è che lo scopriamo oggi l'abbiamo sentito tutti nel giro del calcistico ma va bene ma che cosa fai poi materialmente che strumenti hai ognuno dei strumenti non lo so che strumenti hai però io penso che il problema sembra dall'esterno un po' più grande nel senso mi sembra proprio una questione proprio culturale mi sembra proprio un modus però attenzione le elezioni dovrebbero partire dall'alto io da ex calciatore non voglio pensare cioè io spero che uno che giochi a quei livelli prenda uno stipendio del genere sappia che non si gioca sappia che non si senza qualcosa non è sufficiente come stai a gioverti 10 milioni di euro te lo spiego te lo spiego Carlo te lo spiego allora secondo me secondo me questo deve valere per tutti non sto indicando nessuno in particolare ma ai miei tempi quando arrivavi in una squadra ti davano dei fogli con scritto tutto il regolamento di quello che potevi fare di quello soprattutto che non potevi fare il rosso quindi io prima quando prendo un giocatore dico guarda che in questa società prima di tutto di integratori non li devi prendere a caso lo chiede al tuo medico della squadra le scommesse qui non si fanno di nessun genere intanto tu glielo dici come no glielo dici Mauro velocemente le società non c'entrano ma non ho detto che c'entrano ma lo struttuale è così sono dei dipendenti lasciamo perdere pagati o stra pagati sono pagati sono dei dipendenti ma scherziamo in un'azienda io mi devo guardare se un mio dipendente in un'azienda se tu sai se tu sai che in un'azienda se un dipendente fa una cosa viene squalificato ma non lo sanno tu gli stai dietro ma non lo sanno ma come non lo sanno ma per favore non lo sanno non lo sanno ma per favore stiamo dietro al tuo discorso stiamo dietro al tuo discorso se tu fai questo parallelo allora adesso che lo sai deve essere licenziato potrebbe potrebbe no non potrebbe deve c'è la possibilità che vadano al minimo salariale ci rimettono un sacco di soldi ci rimettono un sacco di soldi e no perché dopo c'è il problema che ha un valore economico è quello il problema è l'asset che fa il sistema di bilancio ma i giocatori non sono solo scusami proprio perché il giocatore ha un valore economico tu azienda deve avere dieci occhi non due torniamo al punto di partenza io sono d'accordo con quello che dici tu Riccardo ma datemi uno strumento concreto che cosa avrebbe torniamo a quello di prima va mi dite mettere alle calcagna del giocatore uno o più persone benissimo anche che l'hanno fatto per per gestire i droghi va benissimo tu inizia a pedinare il giocatore e appuri che il giocatore ogni sera va nelle bische clandestine faccio un esempio veramente e gioca tutto il suo stipendio ok dopodichè che cosa fai? te lo dico cosa fai? interviene ma cosa fai? siccome è un porto di lavoro uguale ad un dipendente ci sono delle contestazioni disciplinari glielo contesti lo sospendi qui c'è un dibattimento in corso praticamente gli avvocati non sono d'accordo gli avvocati non sono d'accordo tra loro quando arrivano in ritardo di mezz'ora non ce l'hanno ma va è una situazione diversa noi stiamo parificando una qualsiasi azienda a le società calcistiche in cui i dipendenti sono un asset economico della stessa azienda il problema è che oggi non c'è più il rapporto con il calciatore tu per fare una roba del genere prima devi parlare col procuratore il suo addetto stampa quello che c'è vicino questo è un ulteriore problema no io ho società questo posso farlo direttamente no scusate un attimo sì però ci sono alcuni giocatori che hanno un potere contrattuale sono stati in qualche società sono stati allora vi posso garantire che c'erano altre problematiche ma la società il primo giorno che arrivava in ritiro erano tutti uguali dal fuoriclasse all'ultimo dei giocatori ti dicevano fate attenzione a non fare questo questo e questo tu intanto gli avvisi e li metti in campagna i famosi ben remunerati team manager cosa ci stanno a fare ma tu pensi che la gente non riesca a captare le situazioni ma dai per favore noi raccontiamo storie ho capito ma ora in chiuso il giocatore in campo è chiaro impedisce l'accesso a tutto è chiaro è chiaro come fai è chiaro facciamo così ci fermiamo ho deciso di scrivere su Instagram poi diciamo che le reazioni sono state talmente dure che poi ha deciso di uscire dai social però è rimasto quello che lui ha detto andiamo a vedere con Aurora cosa ha scritto ha pubblicato queste due stories su Instagram in cui scrive pensavo di partire chiedendo scusa non solo ai tifosi bianconeri ma a tutti i tifosi del mondo del calcio e dello sport per l'errore ingenuo che ho fatto invece no sono obbligato a partire con lo schifo che scrivono su di me i giornali persone solo per mettermi in cattiva luce con mille falsità o forse meglio solo per conquistare due visualizzazioni in più presto parlerò con una faccina diciamo una faccina di disgusto il problema di cui parlavamo prima e di cui si parlava in questi giorni il fatto che i procuratori non siano vicini o chi tutela gli interessi dei giocatori il loro entourage non sia vicino ai giocatori lo dimostra questo episodio cioè non avrebbe dovuto scrivere in una situazione del genere in una situazione del genere in cui sei sotto l'occhio del ciclone in cui stai collaborando con la procura in cui hai un milione di problemi e l'ultimo è quello di pubblicare un milione di debiti sì esatto un milione di debiti l'ultimo dei problemi è quello di dire la tua in questo momento specie sui social che conosciamo tutti insomma il loro potere in un senso o nell'altro possibile che qualcuno non riesca a bloccare fagioli non lo riesca a dissuadere dallo scrivere una cosa del genere proviamo a fare diciamo il percorso perdonami questo è un suicidio in piena regola però proviamo a fare il percorso inverso cioè lui è molto è decisamente sotto pressione in questi giorni si sente in qualche modo di difendersi di provare perché parla addirittura possiamo rivederlo un attimo parla di errore ingenuo qualcosa del genere cioè l'errore ingenuo che ho fatto per anni e anni e non è un errore ingenuo non è un errore ingenuo che gli costa una stagione lasciando perdere lasciando perdere poi il fatto di voler scrivere sui social ma scrivi un qualcosa di più sensato perché così tu in questo momento ti stai suicidando ti stai gettando impasto e social ci credo che poi ha chiuso il profilo perché chiunque poi può scrivere può commentare il tifoso medio ti massacra è la strategia più sbagliata anche perché non dimentichiamo che lui è partito dicendo sapete facciamo queste cose perché ci annoiamo restiamo nel ritiro non sappiamo cosa fare eccetera eccetera ma ragazzi ma questi non si rendono conto in quale mondo vivono ma a parte quello ma a parte quello famoso discorso vadano un po' in miniera ma in un momento poi in cui anche giuridicamente tu hai raggiunto un accordo con la procura il motivo ecco per cui lui avrebbe fatto questo spogo è che a suo avviso alcuni spunti che sarebbero usciti dalle disposizioni sarebbero stati diciamo non ben contestualizzati per cui questo è pare quello che lui voleva dire cioè gli sarebbe stato riversato addosso tanto fango quando se messo nel contesto appropriato diciamo la realtà non sarebbe poi così dura come appare questo pare fosse il suo intento però ha parlato di schifo e falsità il ragazzo sicuramente in un momento di forte pressione di fortissima tensione sotto shock perché pensare una cosa del genere dopo il grande bailam in cui ti sei cacciato è questa la cosa del genere poi aggiungiamo io mi metto anche nelle panni dei genitori cioè i guai che gli ha combinato ai genitori questo qua non sono poco la madre lo sa forse è meglio stare zitti forse è meglio stare zitti e non fare come Lukaku perché vuol dire tutti Lukaku stanno diventando poi parlerò e parla subito e smettila oggi non so perché poi purtroppo su internet io oggi ho letto delle dichiarazioni dovrebbero essere le sue dichiarazioni fatte alla procura no è un'altra cosa questo è il suo profilo instagram su cui ha scritto poi adesso con Aurora andiamo a ricostruire quello che ha detto però questo è una cosa che ha scritto lui sul suo profilo instagram che poi ha disattivato peraltro Fagioli oggi si è allenato si è allenato è praticamente il suo primo giorno da squalificato si è allenato comunque da una parte con la squadra lascia stare l'inopportunità della storia tutte queste cose qua però la sua situazione come prima giustamente diceva Antonio sicuramente ha dei contorni forse patologici quindi un ragazzo così giovane ha questa pressione sapere che il suo futuro è davvero messo in cioè non stare poi dopo ha ragione ho torto parliamo del fine educativo della pena tante altre cose immaginate però questa persona come si sente ok però Carlo allora in questo allora questo è un episodio in cui io riconosco responsabilità della società e del procuratore dell'entourage che sta attorno al giocatore tu in questo momento e potresti farlo in quanto testato tu dovresti vietarli ma però Antonio il padre due giorni fa ma vai il padre al di là del padre però però Antonio il fatto che lui sul suo social personale sul suo instagram personale scriva una cosa cioè la società la società cioè può impedirgli di scrivere sul instagram certo sul suo proprio instagram assolutamente sì anche se scrive una cosa assolutamente sì per il contratto delle società ti obbligano a sapere cosa lasciamo perdere l'opportunità o meno di scrivere quello che ha scritto lui in questo in questo momento diciamo dal suo punto di vista sta provando a difendersi rispetto a un'onda mediatica però Michele in questo momento clamorosa chiudi il profilo è quello che ha fatto questo momento è brutto da dire ma il punto di vista di Fagioli in questo momento è l'aspetto che interessa di meno cioè i fatti sono molto chiari i fatti anche lui ha contribuito a delineare qual è il contorno dei fatti la tua opinione su quello che è successo in questo momento conta zero in questo momento conta zero poi fra un anno una volta scontata la squalifica una volta che spero per lui avrà affrontato questo percorso e ne sia uscito vincitore allora a quel punto potrà essere interessante sul punto di vista ma in questo momento ragazzi sai però lui cos'è faccio un'ipotesi quando ci fu il problema dell'omessa denuncia di Conte quando era la Siena mi ricordo cosa era dopo la scontonna la Juventus fu una cosa che faceva parte di un altro filone ma poi dopo terminò il problema è lo stilicidio con cui avviene questa situazione perché ogni volta che ogni giorno che noi sentiamo leggiamo nomi situazioni questo nome di lui viene rimesso un'altra volta dentro cioè quindi anche se tra 100 giorni verrà fuori Mario Rossi il potere mister X si parterà da eh ma fagioli c'è però qui adesso la società Carlo difficile da togliere allora attenzione innanzitutto io per quella poca esperienza che ho avuto a livello calcistico che invece che invece è stata immensa devo dire non c'erano i social quando giocavi non c'erano i social però i giornali c'erano e probabilmente forse vendevano più di adesso non lo so dico io togli il forse c'è qui un giornalista che te lo può confermare secondo me se vendevano di più prima o adesso vendevano più prima che sta vivendo questa situazione la prima cosa da dire guarda da questo momento devi sparire letteralmente non devi scrivere niente fare niente quando sarà il momento nel caso poi si vedrà primo secondo adesso è fondamentale che la società di appartenenza calcistica prenda il giocatore e continui a mantenerlo in squadra facendolo allenare certo se sarà squalificato è squalificato quello che è ma tu è squalificato non sto parlando di fagioli in generale un giocatore del genere lo devi mantenere in squadra lo devi rendere esattamente come era prima che uscisse tutto quanto integrato nel gruppo al 100% dopodiché arriva alla partita alla domenica non è convocato se tu ci tieni al giocatore al tuo capitale chiaro poi probabilmente il contratto lo rivedrà gli darà il minimo fai quello che vuoi però tu lo devi tenere sempre nel gruppo e da oggi si prende la spugna e si cancella tutto perché altrimenti ti trascini nel tempo e non esci più però c'è un presupposto fondamentale che il giocatore usi meglio la testa perché fino adesso compreso queste dichiarazioni che ha fatto ha dimostrato di non usarla bene qualcuno dovrà dirgli qualcosa quello che dico io ovvio lo devi bloccare quello ovvio ci fermiamo e poi andiamo a vedere quello che è emerso dalle sue deposizioni certo che si ci ritroviamo tra leggiamo subito quindi le deposizioni del centrocampista bianconero al procuratore federale all'inizio un calciatore avendo molto tempo libero finisce con il provare l'ebrezza della scommessa per vincere la noia con il passare del tempo diventa un'ossessione ho iniziato a scommettere a Tirrenia nel ritiro della nazionale under 21 per divertimento poi però mi sono trovato in condizione di stress determinato dai debiti il periodo più brutto lo passai a marzo aprile 2023 durante Sassuolo Juventus feci un errore tecnico e fui sostituito le lacrime in panchina pensando ai miei debiti delle scommesse e poi ancora quando ero lacrimonese quindi periodo precedente mia madre mi consigliò di recarmi al CERT per farmi curare io ci andai alcune volte ebbi l'illusione di poterne far a meno e il periodo successivo giocavo in modo compulsivo davanti alla tv su qualsiasi evento sportivo che stessi vedendo calcio compreso anche Serie B e Lega Pro e ancora il centrocambista della Juve riferisce ai PM che esistono le scommesse sui falli e munizioni a me è stato proposto ma io non ho accettato perché contrario alla mia etica fu Tonali che mi suggerì di giocare sul sito Icebet fu Tonali stesso a farmi registrare tramite un account al sito in questione e non sono in grado di riferire se scommetteva su eventi calcistici in ambiente ho sentito dire che aveva molti debiti di gioco e poi ancora le prime scommesse le feci su eventi di tennis e poi sul calcio non ho mai scommesso sulla Cremonese e o sulla Juventus dunque Torino-Milan vi fornisco alcuni esempi Torino-Milan del 30 ottobre 2022 puntai sul pareggio o sulla vittoria del Milan persi perché finì 2-1 per il Torino questo allora quello che ci racconta ecco quindi dalla Gazzetta dello Sport anche altri giornali oggi hanno ripreso quelle che sono delle posizioni c'è un elemento importante da partire il CERT è un particolare importantissimo allora io ho esperienza diretta per queste cose nel senso che con le amministrazioni di sostegno ci sono proprio i casi di ludopatia o anche per altre motivazioni che non sto a spiegare il CERT sono dei centri psichiatrici di recupero ma di zona cioè a Milano ce ne sono 10 quindi in base alle zone lì la certificazione medica c'è certo quindi il fatto che lui ti presenti a CERT per quale motivo sono centri pubblici dove c'è un psichiatra che ti guardano e gli dici sono andato un paio di volte e ci saranno i verbali di sto cosa a me ha colpito anche un altro passaggio questo è fondamentale perché arriviamo a quel discorso che la ludopatia se in questo caso i certificati dicono così non è una strategia è un fatto e si evince anche da un altro passaggio delle dichiarazioni che a me ha colpito tantissimo e dimostra come il ragazzo in questo momento non sia neanche tanto lucido lui in una situazione del genere parla anche di etica nello scommettere sì in un qualcosa che è vietato no io invece ho trovato un passaggio interessante lui parla di etica no 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 ma per far capire no 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 non arrivo fino al punto di attenzione invece invece lui è completamente dentro fino al collo cioè questo dimostra ulteriormente che il ragazzo ha una patologia invece se non pensi che cosa dimostra che c'è ignoranza sì perché in verità si pensa che solo se fai la combina è vietato certo no non sono d'accordo con voi non sono d'accordo con gli avvocati in questo momento lo spiego perché con tutte e due pure nessuno dei due no 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 in questo caso qui nel senso che quando lui dice ma dicono due cose diverse quando lui dice che non ha mai giocato sulla Juventus e sulla Cremonese cioè le squadre dove ha giocato lui perché la mia etica me lo ha impedito quindi da questo punto di vista l'etica professionale è uscita fuori totalmente poi che abbia sbagliato lo ammetta anche lui detto questo la cosa più triste che ho letto è la missione della totale noia durante i ritiri cioè attenzione 40-50 anni 60 anni fa i giocatori in ritiro o giocavano con le stecche a biliardo o giocavano a carte erano tutti in compagnia oggi hanno tutti quanti l'attrezzo e sono più soli di 50 anni fa ragazzi vi rendete conto questa è la verità ma questo però è verissimo però non riguarda solo il calcio no è la società che è così riguarda la vita di tutti i giorni questa cosa io abito ad esempio in una realtà con tanti paesini ogni provincia di Pavia ogni paesino ha il suo campo da calcio quando ero un ragazzo io erano tutti pieni adesso sono tutti vuoti quindi ho ragione sì appunto ma non riguarda solo il calcio ormai è la società che è cambiata è la sottile linea della verità che tra l'altro è un grande film cosa voglio dire cosa voglio dire che noi pensiamo di essere in contatto con tutto il mondo in realtà oggi siamo molto ma molto uguali e si è uscito queste cose anche il grattaccio nella sottile linea perché tante volte noi sentiamo che si commettono delle tip ernoia sto a ragione è uno spunto ma non riguarda solo il calcio ma non riguarda solo il calcio però nella sottile linea della verità è venuto fuori un fatto anche più preciso cioè che Tonali è uno che l'ha indotto e quindi stando a quello che dice Fagioli su questa situazione c'era già da tempo c'era già da prima l'etica lui lo dice non è che voglio giustificarlo ma sta dicendo mi hanno proposto chiaramente ammunizioni cioè è chiaro non di far vincere o perdere perché Fagioli non è in grado da solo di far vincere o perdere quindi da quel punto di vista cioè nonostante mi hanno proposto di prendere non so da quello che leggo capisco da quelle due righe l'ammunizione o quant'altro lui ha rifiutato quello attenzione però sembra gli hanno proposto di giocare l'IPM gli ha fatto la domanda esistono scommesse sui file a me è stato proposto di scommettere ma l'IPM secondo me non c'è ma gli ha fatto la domanda fondamentale ma chi te l'ha proposto esatto è lui e lui ha fatto quella è la cosa più importante cioè non il sito che ti propone ma sì ma Carlo è il segreto di Pulcinella è il segreto di Pulcinella scusate non insieme non insieme si dice in maniera illegale sa che tu stai scommettare perché tra l'altro se leggiamo ci sono altre righe dove gli dice proprio che gli ha dato il contatto quindi non è soltanto una questione che fai sul sito ufficiale che metti il tuo nome ma è il segreto di Pulcinella avere i contatti con le persone se Fagioli non avesse fatto quel nome cioè quello di Tonali che è comunque un nome importantissimo non si sarebbe trovato un accordo così velocemente e in questi termini con la Procura il motivo è quello Fagioli ha fatto questo nome un nome importantissimo per la Procura e a quel punto si è dimostrato collaborativo nei fatti certo allora adesso ci fermiamo e poi abbiamo ancora altre cose allora nella parte finale di trasmissione parliamo di Inter idea fissa che è Taremi assalto a Taremi per gennaio l'Inter vuole questo giocatore per cui giocatore che si svincola a giugno quindi l'Inter spera di riuscire a prenderlo a gennaio per rinforzare un attacco che insomma soprattutto nelle alternative non ha convinto andiamo a vedere la carriera di Taremi che non sta facendo in questa stagione benissimo è 11 presenze 2 gol di cui 1 in Champions però vabbè le stagioni precedenti sono stagioni pesanti in termini realizzativi 31 gol 26 23 21 si risparmia sarebbe la migliore alternativa sarebbe migliore delle alternative che abbiamo in questo momento anche con questo score non proprio giocatore di 31 anni quindi non più giovanissimo però giocatore che tu lo prenderesti al volo ma di corsa è vero che non è giovanissimo però guardiamo chi sono le alternative di Lautare 34 e 35 anni in questo momento Taremi dirò di più non sarebbe solo un'alternativa ma sarebbe un giocatore da alternare con i titolari nel senso che lui viene potenzialmente anche per fare soprattutto il titolare e quindi così potesse assaltare la finale di Champions cioè potreste puntarci dritto ma a prescindere dalla finale di Champions in questo momento l'Inter ha un problema oltre ad avere un problema sostanziale ha proprio un problema numerico in questo momento l'Inter ha due attaccanti perché io Sanchez non lo considero neanche ha due giocatori per ruolo in tutti gli altri reparti in attacco a due giocatori in punto hai due giocatori in punto c'è stata che si è fatto male però con lì è un acquisto ma non lo dire a me illogico per me è stato un acquisto folle perché tu sapevi sapevi di portarti in casa un giocatore che aveva diversi problemi fisici che ha un'età non più verdissima per cui chiaramente i problemi fisici poi ha messo il carico con Sanchez se ti hanno accompagnato i problemi fisici per tutta la carriera è chiaro che ti accompagneranno sempre di più sposto o no Taremi possiamo dire certo che sposto tu ho capito che lo strapproni volevo sentire lo andrei a prendere io a piedi volevo sentire sentenza lui sarebbe molto contento possiamo dire che l'Inter ha commesso un gravissimo errore cioè secondo me Taremi era da prendere o Inter o Milan lo dovevi portare a casa l'Inter ha speso 30 milioni più bonus per Pavard 10 milioni per Arnautovic secondo me l'Inter una volta perso Lukaku dovevi cercare di prendere un rinforzo serio davanti perché Arnautovic è anche con tutto rispetto un grande professionista quello che vuoi ma è di un livello medio basso l'ha appena detto lui dici voi quindi è chiaro che il discorso dell'Inter era che se vuoi prendere Taremi 20-25 gli devi dare subito al porto ok l'ha appena accusato di copiare gli altri non so se mentre Pavard difensore al Bayern Monaco glielo puoi pagare in 2-3-4 anni quindi la differenza probabilmente è stata che forse non potevano far subito l'operazione ma il signor Taremi in Italia nel campionato scarso italiano ma se viene Taremi all'Inter se sta bene gioca lui o Turam? no se viene Taremi all'Inter secondo me il concetto è che Taremi fa la prima punta quindi gioca Taremi e Turam e gioca e gioca e gioca Lautaro Taremi e Lautaro secondo me all'Inter sarebbe la coppia ideale poi se un giorno Inzaghi deciderà di avere vedute un po' più anche allora a quel punto puoi fare un 3 un 4-3-1-2 e puoi sbizzarrirti con Turam dietro i due attaccanti ma tu sai Enzo che invece c'è qualcuno che sta tirando la volata ai Cardi per riportarlo all'Inter i Cardi sarebbe un giocatore eccezionale in Italia con Lautaro non si è trovato però con nessun altro attaccante compagno di reparti però fa gol però devi cambiare modo Riccardo devo riprenderti scusa Lautaro e i Cardi si è offeso perché gli hai dato del copione no 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 l'autaro e i Cardi caro Riccardi non è giocato assieme perché il signor Paletti non gli ha mai giocato assieme caro Riccardi non ha giocato Gaberetto in Sassanosa beh molto buono un piatto mio preferito te lo sto dicendo per questo così sei buono non hanno mai giocato assieme perché i Cardi presumeva sempre di giocare lui perché non voleva avere nessun intorno perché lui con un compagno di attacco non riesce a giocare ma adesso la quinta sinfonia è cambiata se i Cardi dovesse tornare all'Inter si metterebbe a disposizione prende un milione di euro al mese i Cardi più o meno prende 10 milioni inetti ma mica paga signori ho capito però pagano i poveri interisti guarda l'avvocato che faccia i Cardi nel campionato italiano 30 gol fissi ma li fa guarda ci metto la mano di Graneri su fuoco la mia da sinistra da sinistra Coppola siamo quasi in chiusura c'è il rammarico per il fatto che il Milan non abbia preso Taremi era vicino poi alla fine il Milan manca una prima punta loro secondo me hanno fallato solo in quella scelta hai detto niente però certo era probabilmente il problema principale dell'anno Antonio scusa ma l'Inter non ha fatto meglio del Milan perché voi avete preso Arnautovic e loro hanno preso Jovic siete pari attenzione no peggio Jovic bisogna essere onesti molto peggio Jovic siamo onesti io vi c'è a disposizione in questo momento Arnautovic e l'infermeria Arnautovic a disposizione per guardarci le partite noi abbiamo proprio un problema numerico abbiamo solo due attaccanti e basta Graneri velocemente Taremi sposta secondo te se va all'Inter a gennaio sicuramente ne hanno bisogno credo tutti e due per motivi diversi ma tutti e due hanno bisogno di una punta Taremi i numeri parlano per lui io l'ho visto giocare qualche volta non mi sembra non ti entusiasma no no è un giocatore che ha fatto tanti gol non in una stagione sola il Porto quindi sicuramente anche in una formazione importante non mi sembra un giocatore che sposti gli equilibri quindi preferiresti Alland tu diciamo eh vabbè ebbè ma scusa ma che ragionamento tu devi pensare in base a quello che possono fare le squadre italiane quello che passa al convento oggi Taremi è un centro avanti che ci può stare e ne ha bisogno tutti e due ripeto per motivi diversi Milan forse un po' meno ma c'ha un Giroud in età e devi cercare di affiancare il loro per questioni numeriche in effetti con due punte affrontare ma anche mia non c'è l'alter ego l'alter ego l'alter ego c'è sì